Come si ricorda la morte di Maradona? La nostra città ha sempre bisogno. Penso che il modo migliore per ricordare Diego è non solo celebrarlo come si farà oggi, come esiste con le statue, con le iniziative che si stanno portando avanti, ma anche impegnandoci tutti insieme per fare in modo che l'idea del riscatto che Diego ha portato a questa città sia poi il riscatto della città. E quindi fare in modo che tutti noi possiamo onorare il suo ricordo con l'impegno di una nuova Napoli che finalmente riparte e torna ad essere prima.